ma in realtà è questa mostra non è un evento sapete che ci sono degli eventi esterni alla biennale che hanno il logo biennale con tutto quello che c'è a venezia al logo biennale perché le proposte che arrivano alla diciamo alla direzione della biennale sono tantissime perché ovviamente una mostra esterna ha comunque un avvallo ha comunque un elemento biennale non tutti l'ottengono il guggenheim in realtà non ha neanche voluto chiederlo perché questa è una mostra che si basa su molti dipinti di casa di te perché avendo lei non soltanto sposato max herst ma ha conosciuto tutti gli artisti quindi alcune opere sono quelle che voi trovate sempre e poi ci sono alcuni prestiti davvero molto rari che però arrivano da collezionisti tedeschi infatti la mostra chiude questo questa data che accennava paolo cioè 26 settembre perché l'aspettano a braccio aperto a berlino perché i collezionisti tedeschi hanno accettato di prestare queste opere solo se però dopo la mostra andava a berlino quindi non era assolutamente collegata non ha il bollino evento collaterale della biennale quindi effettivamente possono fare un po quello che vogliono questa è una caratteristica quest'anno la biennale quest'anno è aperta molto prima del solito perché si è aperta il 23 aprile e quindi ha costretto un po tutti a correre non non punta della dogana perché la mostra di bruce neumann era già l'anno scorso e l'anno semplicemente prorogata però per marlaine dumas a palazzo grassi per esempio c'è stata un po una corsa perché tutti calcolavano che si aprisse come sempre invece l'idea di aver saltato ovviamente l'anno del covid ha fatto sì che tutti un po premessero quindi 23 aprile prestissimo in più con i giornalisti non favorevolissimi visto che il 23 aprile era il gran ponte del 25 aprile con tutto quello che comporta una scrittura del 25 aprile giorno della liberazione pronto c'è stato un po di pasticci per tutti tant'è vero che anche le due mostre di anish kapur chiudono la settimana dopo della settimana della mostra del guggenheim perché anche loro gallerie dall'accademia prima sede a una programmazione molto stretta e il palazzo tanto celebrato che anish kapur ha comprato in realtà non è ancora sistemato quindi i pompieri hanno dato il permesso di aprirlo come sede espositiva per un lasso di tempo molto preciso quindi a inizio ottobre la mostra di anish kapur chiuderà si smonta tutto e si procede con il lavoro di conservazione del palazzo il titolo è stato scelto appositamente perché questa mostra è la è un è frutto di uno studio durato 15 anni da una delle più famose diciamo famose storiche dell'arte che collaborano con il guggenheim espertissima di surrealismo è la grazzina sube light che ha trovato al alcune lettere e alcuni particolari volumi molto amati dai surrealisti che hanno portato addirittura ad una lettura nuova di alcuni dipinti storici conosciuti noti a tutti diciamo così è ovvio che alla parola magia viene subito in mente la grande saga no di harry potter che ha avuto un enorme successo tenete presente non solo il film ma la cosa ancora più da sottolineare è il volume della delle case editrici che in tutto il mondo hanno riportato alla lettura moltissimi bambini e moltissimi ragazzini perché vi ho portato questa immagine perché la parola magia ha sempre un fascino ha sempre questo diciamo questo sapore no pensate anche semplicemente a come magari nella vostra quotidianità sognate di poter fare come Mary Poppins quando scoccava le dita e tutta la casa andava in ordine ovviamente ecco a questa parola la mostra qui vedete una delle sale forse un po' le più magiche no di questa mostra siamo ovviamente non nella cosiddetta casa di Peggy ma siamo nella barchessa cioè l'altra parte no che era stata acquisita nel momento in cui Peggy è venuta a mancare il Solomon Guggenheim di New York è il proprietario di tutto quello che noi vediamo a Venezia quindi noi la chiamiamo la casa di Peggy ed è giusto che sia così ma in realtà è la sede veneziana del Solomon Guggenheim di New York ha voluto proprio allargare questo spazio espositivo perché è bellissima la casa di Peggy però magari costruiamo anche delle mostre ecco qui vedete già due opere di una di Leonora Carrington e una eh di Dorothea Tenning che sono fra le voci nuove no e la Stube Light ha voluto proprio accostare ai nomi celeberrini che sono come sempre i nomi degli artisti e cioè degli uomini quelle che invece sono state per molti anni dimenticate ma sono autentiche importanti voci del surrealismo ma sono artiste è un po' il concetto della Biennale di quest'anno no dopo eh la fondazione avvenuta nel mille ottocentonovantacinque della Biennale questo è il primo anno in cui le artiste sono più degli artisti eh considerando che nel mondo ci sono otto donne per ogni uomo beh potevamo anche arrivarci prima ad avere questo equilibrio diverso. Vediamo una delle opere esposte questa bellissimo Magritte questo Magritte di una poesia estrema che era di proprietà di Peggy ma che Peggy poi lo aveva venduto ed è per quello che poi è arrivato a Bruxelles perché come sapete di Peggy per organizzare mostre o per pagare il biglietto della nave di tantissimi artisti che dovevano lasciare l'Europa la Francia nazista per mettersi in salvo vi ricordo che l'ha fatto per Mar Chagall per la moglie la figlia per tutti i dipinti di Chagall e per tanti altri artisti lei si privava vendeva queste opere il titolo è molto intrigante perché vedete che addirittura è intitolato non la magia ma la magia nera e questo è già un importante significativo indice di come nel mondo italiano alla magia nera abbiamo subito delle diciamo del delle sensazioni un po' negative non è così la magia la magia nera la magia bianca secondo i surrealisti sono sempre metodi di conoscenza per loro non esisteva una magia buona una magia cattiva la magia era l'unica valida alternativa di conoscere che unisse scienza religione scoperte ma che non trascurasse un'altra fondamentale parte del corpo umano che non doveva essere per forza la mente i surrealisti che adoravano la psicologia vi ricordo che il padre di Max Ernst era uno psicologo è uno degli inventori del linguaggio delle mani per i sordomuti Max Ernst stesso aveva frequentato corsi di psicologia e forse se non avesse incontrato il fondamentale ruolo dell'arte come terapia sarebbe forse stato un ottimo psicologo un ulteriore diciamo seguace no del trittico che i surrealisti amano che è Freud Jung e Adler no loro dicevano che FJE sono sempre i tre le tre colonne portanti quindi qui avete la moglie di Magritte la bellissima Georgette Berger vi ricordo l'infanzia di Magritte lo aveva profondamente segnato lui a 13 anni è stato chiamato all'alba dalla polizia riconoscere il cadavere della sua mamma che era finalmente al quinto tentativo sfuggita a questa figura del marito così terribile così non di violenza fisica ma sappiamo bene che la violenza può essere psicologica può essere un continuo punzecchiare può essere un sottostimare può essere un ridurre a zero la persona la madre quinto tentativo si lancia in camicia da notte nel fiume gelato non sapendo nuotare muore annegata quindi voi capite che quando Magritte si sposa e ha quasi paura di ferire la moglie infatti Georgette tutte le mattine rinnovava con il marito le promesse nuziali cioè l'idea di sei veramente felice di rimanere sposata se non lo sei lasciamoci piuttosto che arrivare a questa tragica fuga la parte superiore del corpo la dovete considerare di pietra ecco perché diventa specchio del cielo specchio del mare e non la dovete considerare in modo negativo come potrebbe essere il nostro spirito no dire beh quando noi diciamo che uno ha la testa di pietra non gli facciamo un complimento no gli stiamo dando del testone ecco invece testa di pietra per i surrealisti era una testa convinta una testa sicura una persona che aveva un'autocoscienza così forte da non piegarsi da non cambiare idea potremmo dire da non essere una banderuola e quindi ecco che si fondeva magicamente con il cielo con il mare con con tutto quello che aveva intorno la parte inferiore del corpo invece è di carne e quindi è quella parte sensuale da non negare ovviamente una parte spirituale se vogliamo vedere in questo colore azzurro una una citazione del blaue writer di candischi è una parte carnale che deve essere presente no in una in una donna che deve assicurare al mondo la procreazione procreazione che va intesa per per i surrealisti non solo perché può avere i figli e mi raccomando per i surrealisti la procreazione è la donna che ha il potere di spiegare il mondo all'uomo la donna che ha questo legame più profondo di quello che ha l'uomo con la natura col mondo con l'ambiente e che deve quindi sì in questo caso partorire ma non per forza un figlio ma partorire una conoscenza che aiutasse il genere umano bellissima l'idea di porla all'interno di questo balcone e quindi quest'idea no di un interno domestico che fa parte del mondo dell'essere umano con questo cielo e con questo mare di fianco lei si appoggia a un oggetto che noi non riusciamo a identificare perché su quell'oggetto come vedete c'è una stoffa bianca che è la costante evocazione da parte di Magritte di quella camicia da notte della madre e quindi quest'idea no di non cancellarla di aver rielaborato il luto ma di avere il terrore che tutto ciò non debba più avvenire ecco che andiamo a scoprire quali sono i dipinti amati dai surrealisti quelli che loro evocavano nelle loro mostre che sono presenti nei libri che hanno scritto e quindi vediamo per esempio l'incubo di di Fustli siamo pensate nel medesimo secolo dell'illuminismo nel medesimo secolo dell'ansiclopidì di Diderot e di eppure Fustli vi sta dicendo ecco che invece c'è l'incubo il coboldo questa figura noi lo potremmo definire un ognomo cioè il coboldo è oscuro è maligno è un famiglio è colui no che racconta il terrore ovviamente vedete questo cavallo che spunta con questi occhi allucinati e qui che sta vivendo l'incubo non è un uomo ma è una donna quindi nuovamente la più sensibile quella che può sentire di più quella che si sottopone quella più facile anche a sentire il sogno il sonno l'inconscio è sempre la donna procediamo perché un altro signore che veniva citato spessissimo dai suoi realisti è il famoso conte di Cagliostro questo signore Giuseppe Balsamo che in realtà se voi leggete oggi la sua vita è stato a lungo studiato da un grande esperto Raffaele Stordi de Chirico in realtà era semplicemente una persona eh che adorava le scienze che adorava la botanica che si interessava di alchimia spero vi ricordiate quell'incontro no di un po' di tempo fa che avevamo dedicato all'alchimia non come facciamo magia in casa ma come elemento della conoscenza ed era anche uno psicologo cioè aveva capito che moltissimi mali non li si poteva curare con la medicina semplicemente perché erano quei mali che noi oggi conosciamo benissimo no i mali psicosomatici e quindi prima magari vai a curare la psiche solo che all'epoca immaginate no siete sempre nel settecento siete nel luminismo questo veniva visto come una specie di matto diciamo così procediamo con questa intusione Mercurio e i suoi figli perché avete tutto quello che doveva essere il percorso dell'artista vedete che qui in alto c'è un pittore che sta ovviamente realizzando questo dipinto sacro quindi non siamo assolutamente davanti alle messe nere alla magia oscura non siamo davanti all'ateismo siamo davanti a un musicista per esempio siamo davanti a uno studioso e a un navigatore questo è un sestante siamo davanti anche a chi corregge i pasticcioni vedete che questo sta picchiando le terga di questo che aveva cercato di rubare qualcosa e qui avete il forno dell'alchimista quindi l'idea era di come in tante forme diverse la conoscenza nella musica nell'arte nella geografia nelle scienze doveva passare attraverso l'educazione dei piccoli che dovevano ovviamente essere corretti se capivano di usare l'alchimia come frode e non come conoscenza per arrivare invece a queste mette importanti ovviamente la melancolia di Dure è il caposaldo dell'alchimia è non soltanto l'atteggiamento dell'artista costantemente insoddisfatto ma vi ricordo i simboli il tempo grazie alla clessidra la bilancia di una giustizia che va in seguita il cane affamato perché bisogna essere sempre alla ricerca le figure geometriche che pitagora non conosceva e tutti quegli altri attrezzi che ci avvicinano di più al mondo della vera e propria arte perché comunque la mente doveva poi avere un fare ecco ecco qua un'opera molto importante noi stiamo davanti a un'opera di andrè masson che con andrè breton fanno un po il nucleo no sono i due pensatori loro non erano dei degli artisti diciamo così erano più che altro coloro che collegavano gli artisti surrealisti e partono proprio dall'uomo vitruviano che è già un uomo importantissimo e mi raccomando perché vedete che leonardo da vinci gli aveva moltiplicato le gambe moltiplicato le braccia quindi l'idea era di allargarsi al mondo e di appropriarsi del mondo non a caso avevate la coincidenza di due forme molto diverse perché il cerchio è la forma divina mentre il quadrato è la forma umana allora nella cefalo di andrè masson che cosa vediamo vediamo che invece siete davanti a una figura alla quale tagliamo la testa perché il pericolo è che ci si lasci guidare solo dalla razionalità il sapere è razionale ma non può essere solo razionale l'illuminismo che come risultato aveva dato la ghigliottina aveva dimostrato che il lumen della ragione non bastava non era sufficiente quindi esaltiamo le cosiddette viscere esaltiamo quindi la passione l'intenzione esaltiamo anche come potete vedere un cuore fiammeggiante e una daga quindi questo saper troncare con gli elementi sbagliati questo lasciar vivere la passione e al posto come vedete dell'organo sessuale maschile mettere un teschio era proprio questo elemento di ricerca che non ci doveva portare per forza alla sessualità e questo corrisponde a quello che vi ho detto prima la donna non è considerata solo procreatrice di figli è considerata procreatrice di un nuovo modo del sapere così anche l'uomo deve raffreddare quegli istinti perché deve andare incontro alla donna in un modo diverso ovviamente un'altra delle opere che loro amano molto è il sonno della ragione genera mostri perché nel secolo scusate se sono noiosa della dell'illuminismo goia che dopo aver attaccato la guerra dopo aver attaccato tutto quello che gli capitava nella serie dello scapricios attacca quelli che sono i proverbi sono i modi di dire sono le false conoscenze sono la cultura ereditata dal passato che però ormai è diventata macchietta e celebra nel foglio 43 il momento in cui vi siete addormentati ecco che finalmente potete scoprire il vostro altro lato vedete che se per massone bisogna tagliarci via la testa in questo caso basta che la testa si addormenti la testa la ragione finalmente lascia il posto all'inconscio ovviamente goia non può ancora usare la parola inconscio può usare altre parole quelle che usava anche leonardo da vinci l'umor nero la bile nera mi sale da dentro eccetera eccetera però la sensazione di un artista che cede finalmente il passo alla ragione per poter arrivare a cogliere momenti più intensi e più interiori era fondamentale eccolo qua quello che i surrealisti considerano il loro padre pensate che salvador dalì scriveva giorgio de chirico iniziando ogni lettere caro papà pensate no quindi proprio questa idea di questo legame ed è una delle opere amatissime oggi queste al centro pompidù ma per molto tempo era nella casa di andrè breton ed è questo ritornante perché è ritornante perché nella mente di de chirico ci sono degli elementi basilari che continuano a tornare quindi lo vedete subito no colonna dorica e lui è nato in grecia è figlio del mediterraneo quindi dovunque lui si trovi e in questo momento vi ricordo che a ferrara perché nel 17 18 la sua cara mammina lo aveva nascosto come archivista nello lui era era militare però non è mai andato al fronte era archivista nell'ospedale militare destinato a chi aveva subito lo shock della guerra a villa del seminario a ferrara quindi ritorna questa grecia antica ritorna all'oracolo vedete che è un evocare sicuramente la figura paterna queste questi questi baffi e questo pizzetto alla d'artagnan era come era il barone varisto de chirico che era il padre che giorgio perde molto presto perde quando ha 14 anni però il fatto che sia con gli occhi chiusi non è soltanto questa figura paterna che riposa finalmente tranquilla ma è anche l'idea no di questa figura paterna quasi mitologica no questo barone che aveva rinunciato al titolo che si è laureato in ingegneria che se n'era andato no dalla culla facile diciamo della famiglia per affrontare questo mondo quindi giorgio de chirico si sente un po sempre non dico in gara con suo padre però il modello è molto alto qui avete il tema mattissimo da de chirico il manichino manichino che vorrei farvi notare si è inginocchiato davanti alla figura paterna quindi questo omaggio questo elemento no questo riconoscimento del padre però non starò qui per sempre ecco la porta aperta prospettiva perfettissima di questa stanza de chirico aveva studiato all'accademia e l'idea di padre ti saluto ti venero ti venerò per sempre però adesso varco la soglia e decido di fare altro ecco altri due dipinti sempre di dei chirico amatissimi intanto nel veggente quello che voi avete alla vostra destra è proprio l'idea di quello che sarà breton masson e cioè che l'artista debba chiudere gli occhi perché non deve raffigurare quello che vede ma deve raffigurare quello che è dentro di lui quello che magicamente esce da questo animo da questo cuore da questo interno anche se magari ci sono ombre inquietanti vedete questa sorta di figura che si allunga che potrebbe essere positiva o negativa nell'altro non è un difetto dell'immagine il dipinto è triangolare è una rarità quindi questo non è la tela dipinta di nero ma è lo sfondo questo dipinto scelto da di chirico proprio triangolare perché il triangolo è il simbolo fortissimo dell'alchimia si parte in tanti in tanti si vuole conoscere ma in cima al sapere si arriva in pochi anzi forse si arriva da solo la scacchiera sapete benissimo che giocare a scacchi era un elemento fondante per marcelle du champ che dopo le sue opere gioca a scacchi per tutta la vita per man rei per tutto il dadaismo per tutto il surrealismo perché attraverso la partita a scacchi si gioca la vita pensate a una famosissima partita a scacchi che avete visto nel famoso film di eisenstein lo vediamo in orson wells insomma chi gioca a scacchi a un certo punto se lo ritrova come chiave simbolica poi questo guanto che è un evocare un guanto di pelle è proprio perché il pittore non dovrebbe lavorare proprio con le mani ma dovrebbe lavorare con la mente quindi de chirico che arriverà molto tardi alla scultura tardissimo perché la considerava troppo materica troppo insomma proprio da lavorare da da sporcarsi anche qui addirittura vi dice io metto i guanti mi distacco da tutto e guardate poi questo paesaggio razionalissimo per carità è perché avete un porticato però la sovrapposizione con questo dipinto in fondo che evoca una ciminiera insomma siamo proprio davanti a un sogno che evidentemente de chirico faceva spessissimo che ha un senso logico solo nell'ambito del sogno perché razionalmente vedete che infatti il titolo è l'enigma perché non posso spiegare razionalmente quello che il mio inconscio mi ha portato a raccontare la torre rossa di giorgio de chirico è proprietà di peggy lei non lo amava molto di chirico lo ha scoperto grazie a max ans lo ha scoperto quindi quando ha incrociato sul suo percorso i surrealisti e ha deciso che quest'opera che se vogliamo è una di quelle meno enigmatiche vedete sì c'è la statua a cavallo però in quante piazzi italiane abbiamo state questre la torre rossa di ricordo che è un simbolo molto forte sia dal punto di vista fallico della passione ma è soprattutto un luogo un po' impenetrabile quindi è sempre questa figura paterna meravigliosa che ho conosciuto ma ho conosciuto da bambino e questi porticati che sono appunto quelli non tanto di ferrara perché nel 13 de chirico non è ancora ferrara ma sono quelli che lui aveva visto in grecia nel momento in cui segue la barra del padre durante il funerale portata a braccia dagli operai che avevano lavorato grazie alle ferrovie costruite appunto da il padre di de chirico ed ecco max est commerso dalle acque vi sembra un deja vu è ovvio che un deja vu perché questo è un grandissimo maggio a de chirico qui è max est che proprio ma non dico che si inchina si prostra davanti a de chirico guardate che questo questa specie di container è il famoso è il famoso carrozzone del circo del quadro di de chirico l'enigma in fondo alla strada di cui vedete avete una rivisitazione del porticato questa piscina ci ricorda subito i bagni misteriosi infatti vediamone alcuni quelli dipinti da de chirico quando dite basta vado alla conquista di new york quelli dipinti per la la serie di poesie di paul e luar il suo grande amico surrealista anche lui e quindi poi la realizzazione finalmente de chirico era ancora vivo quindi ha potuto vederla non questa versione che è nuova ed è all'interno come potete vedere del giardino che si trova dietro al palazzo della triennale ma nel parco semplione la fontana dei bagni misteriosi de chirico l'aveva vista e l'aveva potuta seguire quindi vedete che il legame molto profondo arriviamo al rapporto fra egli come vedete e max est qui avete uno dei dipinti più più famosi il famoso bacio lo vedete all'interno di questa strana architettura perché perché la galleria che peggy apre a new york è la terza che apre mi raccomando che lei l'aperta a parigi poi parigi viene invasa dai nazisti quindi lei si trasferisce a londra su londra piovono le v2 e quindi alla terza decide beh ho capito vado a new york lei era una città che non amava molto perché sapete benissimo che a new york lei ha vissuto questa infanzia apparentemente dorata perché non sapeva che il padre aveva un'altra famiglia alternativa parigi e una famiglia che il padre amava molto di più quindi la vita di new york lei non l'amava molto no perché era una vita che aveva scoperto essere finta essere di facciata essere solo del nome e non di famiglia vera e ovviamente la madre le raccontava che il padre a parigi si occupava degli affari della famiglia era anche vero peccato che però avesse un'altra moglie altri figli ai quali era molto più legato padre che lei perde molto presto anche lei perché il padre per tornare a new york richiamato dallo zio lo zio beniamino che lo stava bacchettando ha preso il titanic quindi purtroppo non tornerà mai a casa ed è anzi medaglia d'oro perché ha ceduto il suo posto lui viaggiava ovviamente in prima classe ceduto il suo posto a una madre con tre bambini della terza classe quindi padre eroico ma padre mancante questa è la sua terza galleria queste strane pareti le vedete no spero molto bene sono curve questi sedili molto particolari anche questa specie di oblò televisivo dove appeso il dipinto sono il frutto di un architetto molto particolare che poi vedremo cominciamo però a vedere il bacio da vicino il bacio da vicino è un bacio che max erst vorrebbe dare ad una donna vedete che dipinto molto prima dell'incontro con peggy quindi è una donna ideale una donna magica una donna questa è la donna e mi raccomando seguite il mouse eccolo qua anzi se volete posso mettere eccolo qua così lo vedete meglio questa è la donna quindi vedete che è la donna seduta con le braccia spalancate che lo accoglie questo è la figura maschile e lui qui finisce l'abito quindi questo è un piede della donna che come si accogliesse in braccio la figura maschile e questo che potrebbe sembrare un uccello è la creatura magica non un figlio e mi raccomando è la creatura magica che nasce nel momento in cui un uomo e una donna incontrano la famosa altra metà della mela del mito platonico quindi non è la nascita di un figlio mi raccomando max est non avrà figli da peggy guggenheim quindi non c'entrano proprio nulla ma è invece la creatura alata la creatura che proteggerà e che può nascere solo se queste due persone non si uniscono carnalmente ma si uniscono spiritualmente quindi capite che è una creatura che rappresenta un'unione meravigliosa da dove arriva l'idea di questo quadro al nostro max est no vedete potrebbe ricordarvi qualcosa no queste lunghe vesti questo piede che esce questa figura di spalle che però si torce eccola qua da dove arriva arriva da una citazione molto classica ma testa adorava l'arte italiana aveva una stima e un amore per michelangelo buonarroti non quello della sistina mi raccomando ma quello dei sonetti le poesie di michelangelo buonarroti tradotte in francese erano una sorta di scoperta incredibile erano sembravano scritti da un poeta romantico dell'ottocento parlavano di ansia citavano l'alchimia sottolineavano come la brama di coglie quella luce magica nel corpo oscuro della modello del modello che si trovava davanti capite che era proprio quello che i surrealisti stavano cercando e l'altro modello fondamentale e qui potete vedere il piedone è ovviamente leonardo da vinci non a caso du champ aveva scelto la gioconda ve lo ricordate no aveva messo i baffi alla gioconda gli aveva scritto sotto quelle lettere perché perché leonardo da vinci non era solo un grande alchimista un grande pensatore ma era un filosofo rosa croce alchemiche di christian rosenkrantz e rosenkrantz capite che assomiglia molto è a rosa croce scritto nel 1616 da joannes valentinus andree e che è stato per anni un libro vietato un libro all'indice della chiesa nella biblioteca francese sapete che la francia era sempre stata molto lontana dalla chiesa cattolica se non ribelle i surrealisti lo avevano letto e lo avevano adorato perché capite bene che un libro si intitola le nozze alchemiche e beh è proprio quello che loro stavano cercando la galleria la ritroviamo e l'architetto si chiama fredrich kiesler kiesler è nato in austria e la sua prima formazione al bauhaus quindi è un architetto assolutamente legato al razionalismo poi però il razionalismo gli sta stretto tutte quelle forme geometriche tutto quel discorso di incastriamo il immobile di fianco all'altro l'uso il minor come dire il minor movimento per andare dalla sedia del tavolo da pranzo alla poltrona insomma lui era era un po seccato di questa razionalità imperante e quindi lascia eh l'Austria eh la lascia anche in tempo prima ovviamente di dell'Anschluss e di tutto il resto e sbarca negli Stati Uniti negli Stati Uniti diventa una specie di mito diventa un guru un pensatore una sorta di profeta soprattutto perché è un europeo no e quindi porta questa cultura meravigliosa e lui nel 1933 darà vita a questo movimento che si chiamerà correalismo cioè tutti gli oggetti all'interno di una stanza devono essere correllati figuriamoci in una galleria d'arte che deve stimolare il correalismo lui crea questa filosofia di pensiero dell'architettura essendo un seguace dell'animismo e quindi essendo cioè un seguace di quella di quella antichissima religione che prevedeva un'assoluta fusione fra l'uomo e la natura fra l'uomo e l'ambiente mai contrapposti mai in in lotta e che aveva soprattutto visto nell'attento studio dei rapporti la possibilità di andare dall'ignoto verso il noto questa che vedete proprio una specie di tunnel pensate a New York l'impressione che è stata questa è un'opera di Max Ernst vorrei farvi notare che questa è la torre rossa di De Chirico che avete visto prima qui adagiata su questa struttura un po' particolare che in realtà è una poltrona messa al contrario c'è il Giacometti surrealista ed eccolo qua il Giacometti della famosa donna sgozzata no questa figura scheletrica che nonostante sia stata sgozzata sgozzata in realtà solo perché qui nel collo c'è questo taglio continua a muoversi continua a poter se vogliamo attaccare ecco un'altra sala questo è il Candiffi cioè l'Eberrimo della Guggenheim vedete questi fili che servivano no a creare delle strutture dove appendere i dipinti senza avere delle pareti quindi con costi anche minori rispetto ad altre gallerie che ogni volta dovevano cambiare in questa sala viene girato e questa mostra finalmente ne parla il primo film surrealista prima di Luis Buñuel prima di Antract prima di tutto e perché lo scopriamo solo adesso è indovinate perché la regista era una donna e quindi Maya Deren che gira 12 intensissimi minuti di questo filmuto dopodiché ha finito i soldi a disposizione il titolo è The Witch Cradle la culla della strega ed è una una ecco questa è l'attrice in realtà è una bellissima ragazza che sposerà poi il pittore Robert Matta lei si chiama Anna Clark e vedete che è la depositaria di questo sapere alchemico no vedete questo questo disegno che le viene posto in fronte lei a occhi chiusi entra in questa stanza della galleria di Peggy Guggenheim Peggy ovviamente gli era messa a disposizione gratuitamente per ovvi motivi di solidarietà femminile e mescolati diciamo così ecco vedete che lei entra quasi come una sorta di sacerdotessa di questa purezza di questa capacità di sapere questa idea di seguire solo la conoscenza all'interno lei troverà una figura maschile sempre filmata di spalle che in realtà è Marcel Duchamp anche lui si presta gratuitamente e cercheranno di incontrarsi nonostante ci siano questi figli vedete questa mano no che da una parte sono tesi fra di loro ma dall'altra parte gli impediranno di avvicinarsi non è neanche poi così metaforica volendo no perché la culla della strega beh ovvio la donna appena vuole conoscere appena è una donna che ha delle conoscenze parliamo del medioevo parliamo fino al cinquecento al seicento parliamo anche che nel settecento è uscito un libro intitolato l'illuminismo spiegato alle donne perché le donne se no non ci arrivavano se non glielo spiegavano bene eh diciamolo quindi tutte le donne che volevano conoscere sapere che volevano essere considerate erano streghe per forza non c'erano altre definizioni non non c'è nemmeno la parola ribelle sei una strega e allora la culla della strega secondo maya de ren deve essere una culla sempre piena dobbiamo avere sempre una culla della strega ricolma di una donna ribelle anche nel 1930 40 quindi più vicino a noi ovviamente chi prende spunto da questo titolo la nostra ultima biennale quelle in corso quella che noi andremo a vedere cecilia alemani ha deciso di costruire cinque isole storiche cinque luoghi dove sono esposte le artiste che erano incredibili ma nel passato la prima che noi incrociamo si chiama la culla della strega e in qui sta in questa culla della strega vedete che è attentissimo il pavimento è ricoperto di questa sorta di moquette vellutatissima e crea proprio come vedete questa specie di guscio no le altre capsule storiche sono diverse e vedrete proprio qui le opere di leonora carrington intravedete la in fondo un dipinto di cui parleremo più avanti dire medio svaro quindi in questo caso sono le le prime c'è perfino un filmato di giosef di josephine baker perché chi ha dimostrato di liberare completamente il corpo è stata proprio lei quindi le parti storiche diciamo così di questa biennale ecco ecco vedete questa è tutta la parete qui avete eh leonora carrington doratea tenning eccola qua remedio svaro e altre artiste che erano esattamente contemporanee sono addirittura a volte le moglie o le compagnie dei surrealisti ma nelle antologie si parla dei 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 maschi e non di loro eccolo qua arriviamo all'arcano di cazzate no noi diciassette oh mamma mia ci porta sfortuna no nel 1909 l'ordine merito dell'alba dorata che era in realtà un editore collegato alla filosofia del rosa croce fa sì che vengano stampati dei tarocchi innovativi che si basano sugli antichi eh mi raccomando eh non sono rivoluzionari sono i medesimi arcani solo che le figure vengono interpretate in un modo diverso il diciassettesimo arcano è la stella la stella cosa vuol dire pensate noi consideriamo magari i diciassette che ci porta sfortuna la stella è coraggio gentilezza passione speranza rigenerazione fertilità e rinnovamento quindi non poteva essere un uomo fertilità rinnovamento è sempre solo una donna una donna che come vedete attinge dell'acqua la riconsegna all'acqua ma attinge anche dell'acqua e la versa nella terra l'acqua riversata nell'acqua è l'acqua che da donna passa all'altra donna l'acqua versata nella terra è la donna che la versa verso l'uomo quindi quest'idea di una generosità di una passione e di non avere paura questa figura deriva dalla figura magica medievale della melusina che era questa fata meravigliosa legata al mondo dell'acqua e ancora più indietro alla dea egizia iside quindi sempre elementi propositivi di rinnovamento arriviamo a un dipinto celeberrimo la versione della sposa max est prende il titolo proprio da quelle nozze alchemiche di christian rosenkranz vedete che dove possibile loro mettono sempre la parola cristiano l'idea di non essere mai atei di non essere mai contro la religione ma di avvalersi della religione della scienza per conoscere altro la filosofia del rosa croce è molto simile alla teosofia che è un percorso complicatissimo perché capite bene che conciliare la filosofia razionale con la teologia non è così semplice la vestizione della sposa che è sempre stata letta come ma se vuole sposare per di google e succede un pandemonio che è un po questo in realtà alla alla luce di queste scoperte della magia ecco che l'opera per la prima volta a una lettura più approfondita intanto questa è peggy si peggy no non ci interessa questa è la sposa che ogni uomo deve desiderare di incrociare ed è e deve essere una sposa ibrida perché vedete che ha un corpo femminile ricordatevi ma gritte ma la testa di civetta perché la testa è la conoscenza quindi una sensualità ma una razionalità una creatura ibrida perché se è una creatura che ha unito due regni in questo caso regno umano e regno animale ha non i difetti dei due regni ma le qualità potenziate di questi due regni è accompagnata da questa donna nuda con una grossa gola vedete questa gola incredibile ed è la donna che invece ha scelto solo il corpo solo la sensualità soli piaceri no sappiamo benissimo che la gola è uno dei tanti piaceri come sbaglierebbe la figura che sceglie solo la razionalità alchimista ecco questa sorta di figura alata l'uccello è sempre una creatura magica dell'alchimia ed è sempre una figura portatrice di miglioramento ma che non può non tener conto del corpo quindi alata ma non sufficiente per terra il coboldo l'abbiamo visto da fusli questa creatura che è umana anfibia e che è questa parte rossa quindi è una parte ancora passionale ma sta diventando verde perché la pietra filosofale che è il raggiungimento il successo quello a cui io devo mirare vedete l'uccello verde è verde quindi non è eliminare uno non è eliminare l'altro ma è costantemente fondere entrambi dietro questa sorta di piccolo quadro che sembrerebbe essere la ripetizione vedete che invece in questo quadro mancano delle parti perché quello è da dove siamo partiti è il punto di partenza necessario dal quale noi poi miglioreremo verso la conquista della pietra filosofale quindi è un'idea molto importante coincidere gli opposti umano passionale e razionale è l'alchimia perfetta gli opposti che si attraggono noi diciamo no se vogliamo questo è il quadro che ha in mente max erst e cioè vedete che la struttura è la stessa figura centrale figura sin a sinistra figura a destra e qui in mezzo certo queste sono le tre età della donna e la morte però vedete che la struttura è molto simile d'altra parte ans baldur green secondo du champ era un filosofo rosa croce quindi ecco che era motivo di riflessione per questi artisti il re che gioca con la retina è un po l'idea no di questo matrimonio tra max erst e peggy google che ormai è andato a rotto e diciamolo pure è durato poco intenso ma in me non è non non è arrivato a buon fine e la sensazione di come per quanto re sia più grande è la regina che comanda è la regina che decide questi ovviamente sono i due figli di peggy che aveva avuto dal suo primo matrimonio ecco la donna e viene lasciata da max erst per peggy guggenheim era leonora carrington leonora è un'artista molto particolare intanto è un artista che è nata nel 1917 a 17 anni ottiene il permesso proprio perché è molto brava di entrare alla chelsea school of art di londra all'epoca era diretta da medeosa un fan che era un grande artista cubista che si era trasferito a londra proprio per portare le conoscenze del cubismo quindi una ragazza ribelle una ragazza libera che amava alcuni elementi che amava anche max erst leonora era affascinata dall'alchimia dall'occultismo dalla stregoneria come mai perché la nonna di leonora era irlandese e quindi le raccontava questi miti celtici le raccontava queste storie affascinanti che lei condivideva con max erst che invece venendo dalla renania max sense era di origine tedesca è ovvio che aveva tutta un'altra conoscenza di miti renani tedeschi medioevo gotico eccetera loro si incontrano durante l'esposto realista del 36 convivono nel 37 non si sposeranno mai perché in realtà erano due soggetti molto liberi non ritenevano necessario il certificato questo è un quadro molto importante perché nel 39 max est in francia ritenuto tedesco viene ritenuto pericoloso viene ritenuto una spia dai francesi e quindi viene mandato nel campo di prigioni a di l'orio alle drom quindi questo dipinto racconta questa sorta di addio fra i due un addio che in realtà loro speravano fosse per poco in realtà poi diventa un addio definitivo perché muster fuggire dal campo di concentramento e incrocia peggy governor quindi avete l'autoritratto di lui che no scusate il ritratto di lui perdonatemi che è come un re un'eremita guardate queste strane calze che vi ricordano i calzari dei cavalieri medievali ha un abito fatto di piume quindi è un uccello ma la coda di pesce ed era proprio il mantello della fata melusina questo personaggio medievale importantissimo ha in mano una lanterna quindi come tutti gli eremiti che vanno in giro con una lanterna ma la lanterna all'interno un cavallo il cavallo è simbolo di leonora carrington lei è irlandese ha cominciato ad andare a cavallo che aveva tre anni sapeva andare a cavallo senza sella praticamente quindi lei lei leonore questo cavallo ghiacciato perché è ghiacciato perché io adesso sono sola tu sei stato portato via ovviamente lei non racconta questo essere prelevato e portato in campo di prigionia ma racconta questa specie di figura magica che penserà costantemente a me infatti c'è il cavallo nella lanterna però intanto tu magicamente sei stato portato via questo è conservato edimburgo perché è stato un acquisto molto importante da parte di un collezionista che in messico ha incrociato leonora carrington rimane affascinato da questo dipinto che poi per eredità lascia alle gallerie nazionali della scossa ecco il suo autoritratto invece scusate prima il disguido vedete che lei comincia a dire fin da bambina andavo a cavallo ci andavo addirittura sul cavallo ad ondolo ecco per dire come vedete qui pantaloni da cavallerizza giacca verde irlanda quindi questa radice questo legame profondissimo ho ovviamente un altro cavallo bianco perché se questo ero da bambina questo sono io che me ne sono andata da casa e quando i miei non sapevano come gestirmi ecco questi miei capelli a criniera vi ricordo che siamo siamo negli anni venti e le donne comunque avevano ancora l'obbligo di pettinarsi in un certo modo quindi questa specie di criniera selvaggia era non tanto metafora ma dichiarazione di guerra alla famiglia e questa iena molto elegante vedete che cammina sui tacchi però è come lei veniva definita in famiglia e vedete che lei ci sta dicendo sì è vero sono una iena consideratemi iena consideratemi ribelle io accetto tutto quanto lei scriverà dei libri incredibili mi raccomando lei non solo eh dopo essere stata diciamo privata della compagnia di maxers no che nel campo di prigionia lei scappa in spagna la famiglia la raggiunge in spagna e la fa rinchiudere nel manicomio di santander dove lei rimarrà fino al 1944 perché riesce a uscire dal manicomio perché accetta di sposarsi dimostrando alla famiglia che era diventata normale lei scriverà su questa esperienza terrificante un libro intitolato giù in fondo perché lei si sentiva giù in fondo nel pozzo nero quando era nel manicomio in realtà questo è un matrimonio solo di facciata lui è gay serve a entrambi questo matrimonio appena arrivano in messico i due si lasciano di comune accordo e lei finalmente libera per farvi capire che tipo di libri scrive lei scrive una sorta di come dire panflet contro sua madre perché sua madre voleva che lei debuttasse lei di origine inglese sapete che la debuttante per l'inghi per la cultura inglese è fondamentale no vuol dire ballo conoscenze fidanzati sposarsi basta finito lì ecco lei come racconta questo debutto nei suo nella sua volontà lei come animale a un giaguaro la mamma le prepara il vestito le prepara le scarpe le prepara tutto e ovviamente lei non ha voglia di andare a questo ballo quindi il giaguaro le dice guarda non c'è problema al tuo posto partecipo io ah va bene quindi lei chiama la sarta adattano l'abito a un giaguaro adattano le scarpe alle zampe di un giaguaro ovviamente la testa è quella di un giaguaro tutta pelosa quindi cosa propone il giaguaro guarda chiama la tua cameriera io le strappo la faccia me la mangio perché comincio a avere fame e mi metto la faccia della cameriera sul volto capite che dire fiaba gotica è un po poco lei felicissima leonora scrive beh nel momento in cui la stava mangiando essendo la mia cameriera preferita mi sono girata dall'altra parte ma non per l'orrore perché non voleva disturbare il pranzo del giaguaro ovviamente il giaguaro va alla festa debutta e appena le cade la pelle della cameriera si spaventano tutti ma tanto lei aveva fame e il giaguaro mangia tutti quanti erano al ballo questa è la scrittura di leonora carrington per intendersi eccola qua bellissima è di una bellezza sconvolgente davvero ecco questa foto che voi avete a destra è una foto che ha elaborato lei e cioè come molto spesso questa facciata così bella in realtà dietro nessuno andava a conoscerla vedete che dietro c'è l'altra foto è è stata realizzata ovviamente grazie alla collaborazione di berenice e bot che è una grande fotografia di quel periodo però la sensazione che abbiamo è di una ragazza che ci dice si fermavano tutti alla mia apparenza nessuno andava oltre la invece appunto la vedete un po più grande la seconda moglie di maxenster quindi marxers è compagno della carrington sposa peggy e poi sposa anche la penne e la penne è molto più giovane di lui è a circa vent'anni e maxenster ne ha quasi il doppio insomma lei ama molto l'occulto è di origine americana gallesburg è in illinois e trova nella biblioteca della sua città questa zona proibita ovviamente lei va apposta perché non c'è come proibire qualcosa per renderlo attraente e scopre questa letteratura gotica questi libri di magia di alchimia quindi capite che anche in questo caso avete un interesse comune con marxers questo è il giorno in cui lei decide di cominciare a dipingere è un autoritratto come vedete compiuto 32 anni perché la sua prima attività era di scrittrice lei voleva scrivere fiabe gotiche poi decide di illustrarle e in realtà decide anche di diventare pittrice questa è lei vedete questo abito che è da una parte vegetale rami ma in mezzo si nascondono anche dei serpenti è una creatura magica a seno scoperto perché qui avete un'ulteriore forma del coboldo quindi un'ulteriore forma perché loro continuano a dipingere il coboldo perché il coboldo è il lato oscuro di ognuno di noi è il lato profondo è quello che l'educazione magari ci aiuta a tenere a bada è quello che emerge solo in alcuni casi per gli artisti è il lato che invece deve essere nutrito quindi ecco perché lei a seno nudo perché appena può allatterà questo suo lato scuro allatterà cioè questo suo lato più profondo guardate questa strepitosa prospettiva di 3000 porte che si aprono e quindi l'idea di ho aperto la prima porta quella della biblioteca dove sono entrata nella zona proibita e da lì le apro tutte che nessuno mi proponga diciamo così una una porta chiusa davanti a me ecco una arti un uno sentato uno studioso che lei ama molto è paracelso lei lo scopre quasi per caso sempre ovviamente grazie alla sua conoscenza con Max Ernst perché nella biblioteca dell'illinois non c'erano libri e l'idea quindi di colui che aveva preso l'alchimia da scienza occulta misteriosa e la trasformava invece in farmacologia in medicina cioè l'idea di far uscire da questi luoghi misteriosi l'alchimia e di proporre invece paracelso noi lo sappiamo no anche nella nostra cultura italiana è riconosciuto come colui che rende l'alchimia chimica vera chimica che serve per la farma la farmacologia e tutta una serie di altre cose nel 2001 dorotea tenni racconta tutto in questa sua bellissima autobiografia che pensate intitolata between slice cioè fra le vite cioè la sua vita è fra le vite e cioè l'idea di come alcune porte aperte alcuni incontri alcuni anche momenti casuali l'hanno portata a vivere delle vite che probabilmente a gallesburg nell'illinois non avrebbe mai pensato di poter vivere quindi ecco perché lei l'ha intitola in questo modo basilio valentino è uno degli alchimisti più amati da max es da dorotea tanning perché come potete vedere avete un mondo formato da tre cuori quindi il cuore della passione dell'impegno del metterci tutto ricordatevi la cefalo che aveva in mano un cuore fiammeggiante da questi tre cuori però escono tre serpenti perché il serpente non è il serpente del male mi raccomando è il serpente di chi sa cambiare pelle per crescere quindi tre cuori forse non bastano bisogna averne 30 bisogna averne 300 no perché il serpente continua a cambiare sopra avete questa forma a croce sempre importantissimo scusate se sono noiosa ribadire che si riconoscevano nel cristianesimo non nell'ateismo non nell'occultismo delle messe nere ma appena rilasciava un'intervista che arriva subito che lui non beveva sangue di mucca né sacrificava niente lui non faceva niente di tutto ciò per cui una croce che però vedete composta da una figura femminile una figura maschile e ai quattro volati questi quattro uccelli no di nuovo la presenza del volatile la presenza di colui che sorvolando può avere un ulteriore punto di vista arriviamo all'invenzione di tecniche particolari proprio per sottolineare come bisogna andare oltre la superficie questo dipinto vedete che questa foresta parte che sembra una foresta pietrificata ma vedete com'è dentata in realtà dietro la tela maxenste incollava o delle piccole sieghette o dei pettini o dei degli elementi che potevano avere questa dentatura quindi avendoli incollati dietro la tela lui con il pennello quindi voi avete sul verso questi oggetti incollati sul retto con il pennello voi non fate che far salire in superficie questa forma che è dietro l'avrete fatto anche da bambini quando si prendeva il dieci lire lo si metteva sotto un foglio di carta e poi con la mattita si andavano a a far uscire le forme si chiama quindi l'idea di una gabbia di un uccello guardate che occhio luminosissimo che ha questo uccello e quindi questa creatura che è tenuta in gabbia perché perché il sapere è dietro la superficie e non viene portato in superficie capite da dove arrivano i buchi e i tagli di lucio fontana è era proprio questa idea di è giusto squarciamo il famoso velo di maia arriviamo ai cadaveri squisiti qui dovreste vedere delle pieghe si vede bene questa come nascevano le vere opere dei surrealisti nascevano da un foglio di carta piegato dove a turno ognuno disegnava una parte senza sapere che cosa aveva disegnato quello prima o quello dopo quindi quando si apriva il foglio ecco qua si avevano queste scoperte intitolato cadaveri squisiti perché l'avevano fatto prima in poesia e chi aveva iniziato era tristan zara nella parte del il primo verso l'aveva scritto lui e il primo verso era il cadavere squisito che capite bene uno simono no se cadavere insomma magari useremo altri aggettivi non squisito grande maestro grande artista al quale loro ispirano che adorano era anonymous bosch vi ricordo vi anticipo che quest'autunno avremo una bellissima mostra palazzo reale e capite che l'estrazione della pietra della follia è ironico ovviamente è un dipinto che i surrealisti adoravano no perché come fai uscire la follia anzi dovresti ancora di più inserirla d'altra parte se considerate che gli sta operando uno che sulla testa un imbuto direi che già evidente che il primo folle è quello che gli sta operando e non quello che si sottopone questa non è la prima uscita perché l'arte magica di andrea breton questa è l'uscita di adelfi che ha ripubblicato giustamente nel 2003 la prima uscita era un libro con una copertina molto anonima ed è un bene preziosissimo ormai ed è del appunto uscita nel 57 vedete che lui non l'ha intitolata l'arte surrealista non l'ha intitolata il surrealismo l'ha intitolata l'arte magica perché secondo breton finalmente il surrealismo ci liberava di tante convenzioni di tanti pregiudizi di tanti di tante facciate no di tanta finzione per arrivare a percepire se non conoscere la verità ovviamente la magia come illustrazione aveva quest'opera di magritte no perché capite bene che questo è quello che fa l'arte no cercare di copiare di rifare oltre il mito di pigmaglione soprattutto perché vedete che magritte gioca ironicamente sul fatto che lui dipinge su tela ma questo dipinge nell'aria dipinge nel nulla no e quindi crea ancora di più se vogliamo di lui che sta invece dipingendo su tela ecco questa è maria martins che è un artista brasiliana che nell'impossibile racconta proprio come a volte la donna cerca questa è una donna e vedete che ha i semi a queste due braccine cerca di comunicare cerca di eh di di dare moltissimo ma ahimè questo non è un uomo eh questo va visto come la società la società invece di rispondere o di ascoltare risponde con questi urli no ecco guardatela da questa parte qui addirittura ha la mano sul fianco e vedete che se lei sta generosamente dando qualcosa qui invece ci sono dei tentacoli che cercano no di trattenerla è un po' il discorso di della povera leonora carrington che è finita in manicomio no perché la funiglia non capiva questo suo desiderio di libertà lui Enrico Donati eh è un artista italiano è nato nel 1909 a Milano è morto nel 2008 a si è laureato a Pavia nel 34 non andava molto d'accordo con regime fascista diciamo così per cui nell'anno dopo va a New York lui non voleva essere non voleva entrare nel gruppo novecento non voleva diventare un artista di regime non voleva vivere isolato a Rovereto come fa De Pero perché anche De Pero non vuole essere e quindi sceglie gli Stati Uniti negli Stati Uniti incontra ovviamente il surrealismo e ne dà una sua interpretazione intanto queste figure vedete che sono un po' dei cristalli di vetro il vetro il materiale alchemico per eccellenza perché è la trasformazione poi avete delle concrezioni che possono ricordare Stalattiti e Stalagmiti quindi il mondo dell'uomo primitivo dal quale noi siamo usciti sono anche piani geometrici che vanno oltre Pitagora oltre Euclide e come se lui anticipasse la geometria moderna di Mandelbrot no perché vedete che noi non potremmo definire questa figura sulla base di solidi geometrici riconoscibili tradizionali perché è qualcosa di assolutamente innovativo dipinge tele monumentali queste alta tre metri quindi sono quasi pale d'altare diventa importantissimo perché nel 47 è colui che con André Breton organizza la mostra del surrealismo a Parigi e racconta proprio di come la sua passione per l'alchimia diventa ancora più forte quando sposando un erede della grande famiglia Ubigant la famiglia Ubigant era una delle famiglie più antiche che si dedicavano alla profumeria pensate che Enrico Donati è il signore che fonda la Lisa Ashley cioè questa celeberrima questo celeberrimo marchio di profumi di oli di essenze che nascono proprio dalla volontà di Enrico Donati che non si accontentava più negli anni sessanta di dipingere l'alchimia ma che voleva metterla anche in pratica eccola qua questa è la sua opera forse più famosa questo bronzo con questi due occhi di vetro l'idea era proprio di come noi veniamo da una materia profonda da una materia che deve essere forgiata dal fuoco ma con gli occhi di vetro possiamo andare oltre la materia e vedere la conoscenza arriviamo all'incontro di Peggy con il presidente Luigi Eunaudi perché ovviamente quando la Peggy Guggenheim partecipa con tutta la sua collezione alla Biennale del 48 capite che non era più importante andare a New York per vedere il surrealismo ormai gli artisti l'avevano visto l'avevano visto a Venezia tutti gli artisti italiani visitano la Biennale del 48 innanzitutto perché la Biennale della Ripresa è la Biennale della fine della guerra ma anche perché era questa grandissima novità ed eccola qui proprio lei che vedete no questo è il colder là in fondo avete il dipinto di Tanguy che adesso andiamo a vedere e questa è la foresta di Max Ernst quindi vedete proprio quello la prova di quello che vi ho detto la sua intera collezione che arriva a Venezia è lì che lei si innamora di Venezia e comprerà poi la casa eccolo qua il dipinto che avete intravisto il sole nel suo portagioie il Tanguy ha una anche lui ha un elemento fondamentale nella sua infanzia avete visto che più o meno tutti la nonna irlandese quell'altro col folklore renano lui che cosa ha il nonno docente di mineralogia e la nonna docente di paleontologia quindi lui affidato ai nonni per le vacanze estive andavano nella regione bretone intorno a Brest quello che in Francia viene chiamato Finisterre viene chiamato proprio così Finisterre perché è tra la Maniche e l'Oceano Atlantico zona ricchissima di Menhir nonno che studia i minerali zona ricchissima di elementi molto simili fra virgolette a Stonehenge quindi la nonna che studia tutto quanto quindi capite che questo bimbo di due tre quattro anni fino ai tredici anni passava l'estate con questi due signori quindi non c'è da meravigliarsi se poi dipinge o Menhir se poi dipinge queste concrezioni di minerali se il suo orizzonte non c'è mai perché vedete che qui sembreremmo qui potremmo dire beh vabbè qui finisce la terra qui inizia il cielo e no perché poi vedete che qui c'è il mare qui c'è una piccola diciamo chiatta e quindi c'è un altro orizzonte d'altra parte se siete andati in vacanza in un posto che si chiama Finisterre è ovvio che proprio proprio dove finisce la terra magari non lo volete rappresentare ed ecco l'altro vedete che questo è un aspetto di messaggio per l'alchimista no attraverso gli uccelli attraverso il fuoco ma non attraverso il vetro perché non attraverso il vetro perché il vetro è l'alambicco è l'elemento fondante quindi posso andare oltre gli uccelli posso andare oltre il fuoco ma poi io ho questa meta di trasformarmi in qualcos'altro anche qui come potete vedere qui è ancora più complicato vedere l'orizzonte praticamente non c'è perché vedete che queste sembrano nuvole sembrano ma non si sa e qui avete un'ombra di questo di questa creatura misteriosa che è una specie di pastiche diciamo così tra strumenti utilizzati dal nonno cacciaviti martelli eccetera eccetera concrezioni di terra e pietre sacrificali che venivano studiate dalla nonna questa è la moglie Kay Sage Kay Sage è una è un'incredibile pittrice sconvolta dalla prematura morte di Tanguy Tanguy muore molto giovane nel 55 di purtroppo di mal di cuore e quindi lei che non ha non era particolarmente legata alla pittura inizia invece a dipingere ancora di più proprio dopo la morte del marito come vedete è assolutamente indipendente perché avete questi paesaggi ecco quello che la contraddistingue nei suoi dipinti ci sono sempre queste stoffe che volano a volte lei gli ha spiegate come i suoi capelli aveva questi capelli lunghi che al vento volavano a volte le ha spiegate come un lenzuolo no che viene avvolto in attorno a questi palli a volte ha anche detto interpretateli come volete io non ho problemi il surrealismo è anche questo e mi raccomando vedete che i titoli non sono molto indicativi non sono titoli esplicativi vi di tre città già ci già ci viene da pensare quali sono queste tre città lei non lo dice ovviamente perché se no non sarebbe l'occasione no dello spettatore di intervenire sul dipinto con vol van palen che è l'altro grande inventore noi abbiamo detto max est inventa il frottage incolla un oggetto dietro la tela e lo fa emergere con la pittura lui invece dietro la tela metteva una candela quindi la candela avvicinata alla tela senza che la bruciasse creava queste forme questi colori incredibili sui quali lui poi andava a dipingere alcuni elementi questa era nella collezione privata di andrea breton ed è ancora nella collezione privata della famiglia breton come potete vedere e vedete che questo sembra la notte di valpurga la notte dei crampus in tirolo la notte sul la notte sul monte calvo di musoschi cioè ve ne vengono in mente mille no perché queste creature notturne meravigliose magiche che però loro non dipingono per farci paura e mi raccomando lui non è Dario Argento è che ha suoi incubi risolti no no lui è un artista che ci sta dicendo pensate che mondo onirico meraviglioso di cui noi a volte temiamo la presenza è proprio il discorso del sonno della ragione no non non dobbiamo non dobbiamo aver paura dei nostri fantasmi anzi proviamo a parlarci proviamo a comunicarci magari otterremo un nostro punto di vista diverso non miglioramento e mi raccomando ma una nostra sfaccettatura che non sapevamo di avere ecco anche questo paesaggio totemico qui la candela viene usata solo nella parte bassa sempre sul retro e mi raccomando per creare questo questa specie di nero fumo di luogo scuro che invece vedete no è vero che questo percorso è un percorso con delle buche è un percorso circondato da queste figure un po particolari però la in fondo c'è un bel cielo azzurro e cioè adesso questa non non mette certo paura come abbiamo visto prima ecco qui proprio più faro e addirittura qui lui dietro aveva messo il come si chiama un cerchio di metallo vedete che proprio gli esce questo cerchio perfetto e qui di nuovo tutti quegli oggetti che lui trovava quindi fumage per palen frottage per il nostro maxenst purtroppo palen avrà una vita molto complicata perché il fratello orai tenterà il suicidio davanti ai suoi occhi lui è un ragazzo quindi per quello che cerca sempre di evocare questi fantasmi no perché se li evochiamo se ne parliamo forse evitiamo tragedie più profonde e in realtà poi lui si suiciderà nel 59 quindi lascerà questo biglietto porto a termine quello che mio fratello non è riuscito quindi evidentemente anche dipingendo questi fantasmi non è riuscito a risolverli vediamo l'europa dopo la pioggia è un auspicio è maxenst era molto diverso da palen era un ottimista quindi la pioggia sarebbe la guerra che non è ancora finita nel 42 per cui è ovvio che lui dipinge in europa di rovine vedete no queste sembrano proprio le case bombardate con queste queste stoffe che pendono però in questa europa c'è una creatura femminile una creatura maschile che riprenderanno il cammino quindi capite che qui c'è una visione decisamente più ottimistica arriviamo a paul del vo per lui la donna è un essere ultra terreno è un essere che ha la capacità di dialogare con la natura che l'uomo non ha quindi questa donna che è metà tronche metà una donna non dovete vederla come una donna radicata perché vedete che le radici sono come dei tentacoli e la donna che con la natura dialoga parla non ha nessun tipo di problema non ha delle paure e sono sempre donne in quadri molto prospettici dove spesso c'è un muro che le isola dal resto del mondo sono intorno a questo altare per questo rito della fertilità fuori dal quadro lui presuppone una donna perché vedete che qui c'è uno specchio dove viene inquadrato un altro busto con un seno nudo quindi le donne che generosamente condividono questo rito con le donne più giovani di loro quindi una femminilità generosa che condivide le conoscenze che le trasmette infatti vedete che siete davanti non a un cerchio ma quattro punti cardinali ovviamente nella mia una figura forte il pentagono il pentangolo quindi capite che la donna fuori dal dipinto è la quinta che serve per chiudere il rito eccolo qua lo vedete il quadro nella galleria siamo tornati un momento alla galleria di peggy a new york e qui lo vedete proprio appeso questa è la 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 grandama spagnola di miro è tanto per intenderci e questa è una e questa è la regista maya beren che stava vedendo i dipinti e stava decidendo dove delle due sale girare il suo film come vi dicevo ecco nel ritamo nel ritamo della notte voi avete ancora più chiaro no qui il corpo è tutto femminile però guardate questa capigliatura questa capigliatura di vegetazione anche qui ancora chiaro e colei che al segreto colei che sa no vedete che anche le due donne devono attingere da questa altra donna misteriosa perché c'è colei che sa ma che non ha nessun egoismo nessuna paura di condividere con le altre donne quindi una grande generosità in un paesaggio che solitamente è un po' arido è è un po' arido è un po' secco perché è la donna che passa con questi capelli che dà il senso della vegetazione altrimenti il paesaggio è arido ecco questo è quello che Maxence pensava no quando gli dicevano che la donna è l'angelo del focolare ecco vedete questa specie no di uccello violentissimo no è il motivo per cui Marisa Merz qualche anno dopo dirà ma certo perché noi siamo il diavolo del focolare no cioè l'idea di come l'etichetta angelo del focolare alla donna per Maxence uomo non era corretta non era giusta se le donne del surrealismo si erano liberate ecco che era un piccolo trionfo vedete il sottotitolo il trionfo del surrealismo alla biennale del 2019 eh sì è l'ultima che abbiamo visto pre-covid Ciprien Gaillard artista francese proiettava il quadro di Maxence su una proiezione digitale gigantesca quindi l'idea era sempre di più l'angelo del focolare non è quello che noi intendiamo arriviamo a Remedio Svaro Remedio Svaro è come vedete nata in Spagna è morta poi città del Messico grande amica di Leonora Carrington le due in Messico vivranno davvero in una specie di simbiosi addirittura Leonora Carrington si ispira a Remedio Svaro per alcune donne protagoniste dei suoi racconti hanno una complicità meravigliosa hanno proprio un'amicizia profondissima e questa vedete che è la donna che esce dallo psicanalista allora intanto guardate questa eleganza di questo passaggio no allora lo psicanalista si chiama dottor F.J.A. quindi è Freud Jung Adler cioè sono andata da tutte e tre praticamente mi porto appresso il cestino del ricamo una piccola teiera qui dentro c'è di tutto eh cioè c'è tutto quello che io come donna dovrei fare mi pettino come le streghe perché sono una streghe sono orgogliosa di essere una strega prendo la figura di mio padre e la butto nel pozzo perché così tutto quello che è patriarcato io non ne voglio più sapere quindi cammino leggere leggiadra perché ho preso tutto questo insieme di costrizioni lei non aveva potuto andare a studiare o perché era una femmine solo i fratelli maschi potevano studiare non era questione economica ma era questione che il patriarcato era così per lei era stato deciso che si doveva sposare quindi se sapeva leggere e scrivere cosa le serviva per lei era stato deciso questo per lei è stato deciso quest'altro a un certo punto lei fugge da tutto quanto è questa vita e grazie alla grande accoglienza del presidente del messico lasaro cardenas che aveva voglia di avere artisti europei perché voleva rinnovare cambiare voleva proprio rivoluzionare l'arte della cultura messicana accoglie lei a braccia aperte e appena arrivano lei e il suo finto marito anche in questo caso c'è un marito di con di comodo il poeta benjamin per e che è costretto a lasciare la francia perché è un artista antigovernativo ecco che si sposano per comodità di entrambi fuggono in messico e poi da lì iniziano la loro vita vera liberi entrambi infatti poi nel 52 remedio svaro sposa un uomo che lei sceglie di sposare un uomo col quale avrà una vita matrimoniale meravigliosa la sua libertà è tale persino pensate con due monumenti come diego rivera e frida calo perché litiga con questi due monumenti perché lei riteneva che il marxismo importantissimo per alcuni elementi non avesse un valore spirituale lei voleva una filosofia un modo di pensare e un modo di vivere che non eliminasse la spiritualità ecco perché litiga con diego rivera e frida calo guardate in queste anime delle montagne ci sono queste figure femminili meravigliose che vanno un po' scoperte perché molto spesso le donne lei dice si chiudono un po' troppo si 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 ritengono più salve se si chiudono in se stesse quindi forse dovrebbero un po' scendere da queste montagne nei tre destini vediamo tre donne che vivono isolate come i monaci ma che per amicizia per lettera per sintonia vedete che comunicano lo stesso non hanno bisogno di vedersi non hanno bisogno di toccarsi la comunicazione è un silo sottilissimo è il vero rapporto di amicizia e di condivisione che va al di là del fatto di essere nella medesima casa o nella medesima città questo è l'eberrimo questo lo avete visto anni fa a palazzo reale nella mostra l'altra metà dell'avanguardia era il dipinto preferito dalle a vergine perché vedete questa donna che di notte quando finalmente ha fatto le faccende messo a letti figli recuperato il marito messi tutti a posto lei sale in cima questa casa e nutre la luna guardate che meraviglia c'è quest'idea sempre in chiave simbolica no in realtà cosa nutre nutrirà se stessa no finalmente mi isolo finalmente mi dedico a me stessa e in questo nutrimento c'è magari un libro c'è una conoscenza c'è altro però questo salire no nella notte senza avere testimoni questa è sempre lei in biennale e questo lo vedrete in biennale proprio nella culla della strega siamo quasi alla fine mi raccomando vi chiedo ancora un minuto la creazione degli uccelli era l'idea di una donna civetta quindi una donna che è già arrivata alla conoscenza può già volare sopra può già vedere il sapere da mille punti di vista vi ricordo che la civetta per la mitologia il simbolo di minerva patrona delle arti e dei mestieri e soprattutto l'idea delle donne che creano guardate che strumenti ha in mano è lei crea attraverso la conoscenza che filtra come vedete attraverso la musica vedete tutti questi fili di collegamento e attraverso un nuovo tipo di coboldo lei ha la maturità di non rifare queste figure ignomiche che queste figure del passato il coboldo c'è ma è un alambicco che mi distilla i colori eccolo qua vedete che le fa scendere i colori quindi io creo quello che aveva fatto ma gritte cioè dipingere una donna nel nulla lei ci dice ma certo che posso creare gli uccelli perché mescolo tutta questa serie di conoscenza incredibile ecco la nostra rimedio svario è micissima di leonora carrington come vi dicevo le due si conoscono in messico è tutte e due scappano dall'europa e lo sono scelto loro e l'idea è proprio di recuperare non amore è la nonna irlandese che ovviamente quando parlava delle ricette di cucina parlava come dell'antro scuro vedete che in realtà stanno soltanto preparando le verdure per cucinare un'oca solo che le cuoche sembrano delle maghe qui c'è la strega la strega che ha portato l'oca e l'oca ci viene un dubbio che loro riescono a metterla in padella così enorme quindi è il ridicolizzare quelle che erano le doti delle donne di una volta leonora carrington si trovava molto d'accordo con la moglie di eduoroper che aveva chiesto al marito guarda la moglie di eduoroper guarda togli la cucina perché io tanto non c'entrerò mai se vuoi mangiare andremo a mangiare fuori quindi capite che le doti culinarie venivano assolutamente messe da parte concludo appunto con il libro scritto da leonora kevington in messico in realtà è un libro che è uscito molti anni dopo la sua morte perché un libro che è stato stampato nel 2013 pensate lei è morta molti anni prima perché per i suoi figli aveva dipinto sulle pareti della casa di città del messico queste figure magiche misteriose incredibili leonora kevington è quella della famosa badà della famosa debuttante quella che il giaguaro prende il suo petto quando il marito le dice guarda bisogna lasciare questa casa bisogna che insomma dobbiamo lasciarla lei lascia gli affreschi oggi è un centro per l'infanzia la casa di leonora kevington decide però di scrivere quelle fiabe che lei aveva solo dipinto il testo manoscritto lo affida al grande alexander jodorowsky che lo protegge che lo conserva ma che in realtà pensava non fosse interessante per una pubblicazione quindi finalmente gli eredi lo consegnano ad adelfi che lo pubblico invece nel 2013 e la nostra Cecilia le mani lo sceglie come titolo della biennale quindi questa è la copertina del libro da leggere come compito delle vacanze un librettino è se volete guardate questo è un librettino è un librettino piccolino però il titolo l'arte dei sogni vedete che già un titolo storiale praticamente ha fatto sì che queste fossero le immagini scelte sono due dipinti di due artiste diverse di scelte da Cecilia le mani come simbolo della biennale di quest'anno quindi questi occhi misteriosi su fondo chiaro o questi occhi ancora più misteriosi su fondo scuro ecco abbiamo concluso ecco 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 Grazie a tutti.